E' dalla prima puntata che io devo dire una cosa, una cosa importante. Faccio anche un po' fatica a dirla. Quest'anno non mi avete sentito chiamare Piero. Grazie. E' un pensiero che mi sono tenuto dentro dalla prima puntata ed è un applauso che va a tutti quelli che gli hanno voluto bene. Grazie. Grazie di cuore.